Grazie a tutti di essere venuti, noi siamo Yarns of Terror da Roma Avvicinati, avvicinati l'ampasso Pace urbale, vieni qua Primo, se volete divertirvi di più vi avvicinate Ci riempiamo più voi, più voi, reciproco Onesto, onesto, reciproco A Bloodman express, Bloodstained, Bananas Bloodstained Su formazione è l'attacco di rispondi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti